Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. Ma noi era più facile perché noi avevamo deciso di non prendere tanti deputati prima per poter candidare consiglieri comunali che ci sembravano più a contatto con le realtà e quindi avevamo meno un problema di ricandidatura, relativamente più facile.